Good morning Milano, good morning a tutti, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, è lunedì, inizia una nuova settimana, are you ready? Spero di sì, spero di sì, dai, siamo pronti a iniziare, noi qui sì, non so voi a casa, ma secondo me sì, anzi siete molto più pronti di noi, altro che siete già lì, ma molti di voi sono già usciti sicuramente, sono già in mezzo al traffico, sono già sul tram, che tranquillamente ascoltando questa radio se ne vanno verso il lavoro, perché non so se lo notate, guardate che si vede subito chi sta ascoltando questa radio in questo momento, guardatevi in giro, quelli con la faccia non incazzata sono quelli che ascoltano questa radio, eh sì, siamo capaci di fare questo e anche altro, ci attrezziamo anche per i miracoli se volete, comunque cerchiamo di darvi la massima carica per iniziare questa giornata al meglio, per iniziare questa settimana al meglio, oggi è lunedì 7 ottobre, sono appunto le 7 e 11 minuti e inizia qui la settimana di Crystal Radio, ma insomma sapete che ci sono tante tante altre trasmissioni dopo di noi che vi daranno comunque la carica durante tutto il giorno, qualsiasi cosa voi vogliate fare, stiate facendo, ci siamo noi a farvi compagnia, ma soprattutto siete voi che potete fare compagnia a noi, insomma non saremmo qui senza di voi, 331 78 53 555, il nostro numero di Whatsapp, Whatsapp che sta già bruciando, brulicando, non so come dire, cioè qui trema tutto il nostro Whatsapp, soprattutto il Whatsapp di Marilena che dice buongiorno Milano, qui a Tokyo sono le 14 e 11 del pomeriggio, un saluto e buon lunedì a tutti, beh allora adesso che arrivi anche un saluto direttamente da Tokyo, beh fantastico, c'è un ristorante se volete che vi consiglio dalle parti di Shibuya, molto buono, no Shinbashi, molto buono, Ichikan, beh non è pubblicità dai. Era il primo agosto 1981 quando il videoclip di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Video Kill the Radio Star, fu trasmesso dall'emittente MTV, era l'apertura, la nascita dell'emittente MTV, Video Kill the Radio Star, beh l'intento non fu però mantenuto perché siamo ancora qua, ebbene sì, nessun video ha ammazzato le star della radio, nonostante appunto c'era questa canzone dei Bangles che diceva così, delle Bangles che diceva così, ma perché tutto questo? Perché se siamo qui, se siamo ancora qui, se siamo qui a usare questo mezzo radiofonico, lo dobbiamo perché invece cento anni fa, il 6 ottobre 1924, venne trasmessa per la prima volta in Italia una trasmissione radiofonica, da quella che era l'antenata dell'Eijar, che poi diventò poi Rai, che poi è diventata Rai, insomma, ecco, inizio tutto quel 6 ottobre del 1924, più o meno così, anzi così. URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425, a tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera, sono le ore 21 del 6 ottobre 1924, trasmettiamo il concerto d'inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana, per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà AID, dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo. E da lì inizia tutto, e quindi se siamo qui questa mattina, se siamo qui, se c'è Ambroggio Curti dopo di noi, se ci sono il Tacchino Curioso, se ci sono, non solo Metal, ma se non ci sono tutte quelle altre trasmissioni che ci sono qui su Crystal Radio, è perché quel 6 ottobre tutto iniziò così e poi, va bene, lo sappiamo bene. Tra parentesi, pensate, nel 1924 nasce la radio italiana, nel 1984 nasce Crystal Radio, quindi insomma c'è un tridunione del 2024, ci sono io a parlarvi qua, eccoci, questa è la deriva in cui nessuno voleva che si finisse. No, però insomma la radio, la radio è quello strumento che, anzi non è più neanche uno strumento, perché quanti di voi in realtà non ci stanno ascoltando la radio, ma ci stanno ascoltando attraverso il sito, crystalradio.it, attraverso l'app, sia per Android che per iOS, attraverso gli smart speaker, no? Quelli che ci avete in casa, tipo, non so, Alexa, accendi la luce. Ecco, una cosa del genere, capito? Ecco, adesso non so quante Alexa ho fatto partire in casa di qualcuno che ha acceso la luce, ecco, ma puoi anche dirgli, ascolta Crystal Radio, ad esempio. E insomma, quanti di voi non ci stanno ascoltando in realtà proprio dalla radio? Ma comunque è quello, grazie a quel 6 ottobre del 1924, iniziò l'epopea radiofonica italiana, che poi sappiamo, insomma, le radio libere, e anzi, sono ben contento che vi sto parlando da una delle così definite, no? Su internet abbiamo trovato questa definizione, quindi la faccio mia, o meglio, la diffondo molto volentieri. Insomma, Crystal Radio, l'ultima radio libera di Milano. C'è un artista, credo, su tutti, che abbia fatto, che ha scritto un inno proprio, un inno alla radio, questo è Eugenio Finardi, con, appunto, la sua La Radio. E se una radio è libera, mi piace ancora di più, perché se è libera veramente, libera la mente, eh sì, è così. Speriamo quindi di liberare le vostre menti, grazie anche a chi ci sta scrivendo al 3317853555, parlo di Alberto, che dice, una buona settimana agli amici di Good Morning Milano, a Fabio, Beatrice e Ginevra, ringrazio anche per le due che sono di là. E sabato, invece, si inaugura la M4, che spero renderà più agevoli e più veloci gli spostamenti, almeno i miei, così dice, mi piace questa voglia, no? Di condividere con tutti, diciamo, una città moderna, veloce come Milano, poi, non so per voi, ma almeno a me cambierà la vita, quindi, va bene, Alberto, so che aspetti con impazienza l'arrivo di questo sabato, quindi sabato, sì, ricordiamo che apre la M4, tutto il giorno, praticamente, ci saranno festeggiamenti, nel pomeriggio tantissime attività, soprattutto nella zona da segneri, quelle fermate lì, California, Bolivar, quelle notte, sono pieno di attività, l'abbiamo letta l'altro ieri, ci sarà anche il, come si chiama, Cornhole, che avete sentito, appunto, neanche Beatrice sa cos'è, quindi, insomma, cercheremo, no, è quei sacchettini, che lancia, comunque, vabbè, che non è l'angolino dove si si ferma a mangiare la pannocchia, no, non è quella roba lì, comunque, sabato, grandi festeggiamenti, sabato mattina ci saranno i viaggi inaugurali, credo, con le istituzioni, mi auguro, nel senso adesso, farò un salto, tra parentesi, proprio sabato mattina per vedere un po' questi viaggi inaugurali e poi, appunto, la grande festa sabato pomeriggio, festa che c'è stata, è stata veramente una grande festa anche questo weekend, perché c'è stata l'edizione, la nuova edizione di millemila bici, oltre tremila ciclisti alla pedalata di legambiente per la città, il corteo ha percorso i bastioni con un allungo sul corso Buenos Aires fino a Loreto, oltre due chilometri di corteo in tanti, con il cartello Ciao Vittorio, rivolto, ovviamente, a Feltri. Seconda edizione, appunto, di millemila bici, tra Piazza Castello e Viale Gladio, la pedalata nata da un'idea di legambiente Lombardia con Milano in bicicletta. In mattinata, secondo le organizzazioni, sono partite oltre tremila bicicletti di tutti i tipi, dalle cargo bike familiari per il lavoro alle bici da corsa, agli sportivi della Federazione ciclistica italiana, ma poi c'erano anche le pieghevoli, le reclinate, le e-bike, insomma, le assistite, tutto, di tutto e di più. Una grande festa, appunto, in tanti che hanno percorso i chilometri di questa millemila bici, millemila, mi ricordo sempre con l'ingegner cane, quello della Gianna Pazbenda, non so se ricordate voi, quello che voleva fare lo stretto di Messina già a metà degli anni 90, no? Quello lì, mille, mila, milioni, quello lì, ecco. Comunque, va bene, millemila bici, tutti i bastioni percorsi, appunto, dalle biciclette, poi hanno fatto un allungo sul corso Buenos Aires fino a Piazzale Loreto e soprattutto c'erano questi cartelli simpatici, appunto, che inneggiavano un saluto verso Vittorio, che ho scritto ciao Vittorio, appunto, alludendo, sto leggendo la Corriere della Sera Milano, alludendo alle recenti parole di Vittorio Feltri, ricordate, no? Che diceva che, insomma, a me i ciclisti piacciono solo quando vengono investiti, ecco. La ripeto solo per farvi capire la gravità di certe dichiarazioni che vengono fatte, insomma. I ciclisti, giustamente, non hanno presa bene, ma non solo i ciclisti, tantissimi in città. Abbiamo avuto qua anche, venerdì scorso, il consigliere regionale Luca Paladini, che anche lui ha portato, appunto, in regione questa questione, oltretutto, perché ricordiamo sempre, appunto, che Vittorio Feltri è un consigliere regionale. Anche Angelo Mazzone, di Milano Segreta, ricordiamo che, insomma, non l'aveva presa bene, tanto da mandare delle mail e chiede anche alla sua community di scrivere delle mail, richiedendo le dimissioni di Feltri. 7.33 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, niente lasciato al caso, perché cerchiamo di addolcirvi la mattinata, non solo ascoltando gelato al cioccolato, ma magari andandolo anche ad assaggiare del gelato, magari questo sabato. No, Andrea Zingrillo, buongiorno! Ciao, buongiorno, buongiorno. Perché lo chiedono Andrea Zingrillo? Perché è il deus ex macchina della gelateria Wall-E e questo sabato ci prende proprio per la gola, mi sa, vero? Vero Andrea, che cosa avete in mente? Cosa volete fare? Cosa farete? Torna all'evento che ormai da quattro anni è diventato ricorrente, che si chiama Come Prima Più Di Prima, e per quella giornata ospitiamo 20 gelatieri, amici, colleghi, gente brava che arriva un po' da tutta Italia, e ognuno di loro mette in vetrina nella mia gelateria, quindi io quel giorno non farò niente se non ospitarli, un gusto di gelato che ha un loro cavallo di battaglia, un esperimento, una loro creazione, insomma. Ah, però ci vuoi proprio tutto a ciccio e brufoli, come si dice in questi casi, no? Ah, la parola costume è passata ormai. Eh, quindi ormai siamo pronti anzi a incamerare i zuccheri in vista dell'inverno. No, è interessante anzi, per tutto è interessante che, insomma, si toglie anche un po' questa idea del gelato solo in estate, solo ad agosto, invece no, cioè il gelato va bene tutto l'anno. No, nasce proprio uno dei motivi per cui faccio questo evento è proprio per quello di cominciare intanto ad aumentare la cultura, no? Quindi ci sono un sacco di programmi ormai anche in televisione, di cucina, pasticceria, il mondo del gelato resta sempre un pelo indietro, il gelato è considerato molto, come dire, una cosa estiva da passeggio, un po' più facile, quando in verità poi dietro c'è un gran lavoro anche lì. C'è un grande lavoro, c'è un grande lavoro, infatti dicevamo appunto, in questa occasione tu smetterai, diciamo, il camice da chef gelataio, ma 20 i tuoi colleghi invece si mettono all'opera. Che cosa ti hanno, cioè sappiamo già, ti hanno già detto, puoi spoilerarci qualcosa di cosa potremmo ostaggiare? Beh, in verità sì, anche perché il programma è sul sito, tutto, tutti i gelatieri partecipanti sono sul sito e tutti i gusti sono già noti. Guarda, cioè si spazia dalla ricetta più classica di un fior di latte molto particolare, a un sorbetto, limone e olio d'oliva, piuttosto che esperimenti alcolici con un liquore che si chiama Chartreuse, con un fuso di camomille miele. Ce n'è veramente di ogni. Da dove arrivano questi 20 gelatai, questi 20 mastri gelatai? Da Verona, Casalabate in provincia di Lecce, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Arezzo, veramente da, praticamente da tutta la penisola. Ah, e poi ovviamente abbiamo la, ospitiamo uno, chiamiamolo special guest, che è Sara Belinzona, che è una delle finaliste della scorsa stagione di Masterchef che l'abbiamo messa alla prova cimentandosi con il gelato che non è il suo mondo. Anche perché sto pensando a Masterchef, li fanno fare qualunque cosa, praticamente fammi vedere come taglia a metà un cannellino, però non c'è una prova di gelateria ad esempio. Diciamo che a Masterchef quando arrivano le prove tipo di pasticceria cominciano tutti quanti a farsi tremare le gambe. No, gli abbiamo dato supporto quindi con un mio amico che ha la gelateria di Arezzo, quindi ha fatto che anche il suo amico ovviamente fa la ricetta, ha fatto la ricetta a quattro mani e quindi... Fammi capire una cosa per Andrea, per questi 20 tu li hai scelti perché cosa fai? Ogni anno fai un tour gastronomico dove vai a assaggiare i vari gelati in giro per la penisola? Io stalkerò un po' di attività sui vari social, poi ovviamente giro sempre, ogni giro che faccio chiaramente trovo una gelateria da andare a provare. Ogni anno ormai praticamente è diventato abbastanza rituale questa giornata e quindi durante l'anno penso a chi invitare per la stagione dopo. Alcuni magari si ripetono che sono amici di lungo corso piuttosto che gelateria che magari trovo sui social che mi piace l'idea che hanno di lavoro piuttosto che gente che ho conosciuto, gente che ho conosciuto tramite altra gente. Senti Andrea, il gelato è uno di quelle cose comunque complicate anche da capire quando è buono o non è buono. Un po' come la pizza, c'è qui che dico ma sì va tutto bene e ognuno, se tu parli con chiunque, ti dice no ma il gelato migliore è quello della gelateria del mio quartiere, no ma il gelato migliore è quello lì, io faccio 20 km ogni volta per andare. Allora non ti chiedo qual è il gelato migliore perché ovviamente sarà il tuo, cioè c'è poco da fare. No, no, no. Ma da cosa si può capire poi se un gelato è buono o no? Ecco questo voglio sapere invece, quali sono i segreti da capire se un gelato è buono o meno? Allora intanto fare il gelato è difficile perché proprio a livello chimico è difficile. Andrea De Carlo ci ha scritto un libro che si chiama L'imperfetta meraviglia che rende molto bene l'idea. Per quanto mi riguarda non c'è il gelato migliore perché è molto complicato dirlo, come non c'è una pizza migliore. Ci sono dei gelati buoni e ci sono dei gelati un po' meno buoni. Quello che dico sempre io è che il gelato buono secondo me è quello che ti ricordi. Ok. Ti ricordi di essere andato in quella gelateria e di aver assaggiato quel gusto. Vuol dire che secondo me sta facendo un bel lavoro. È chiaro che ci sono dei parametri abbastanza oggettivi, cioè nel senso il gelato deve essere, deve avere dei colori sobri, deve avere principalmente... Oh ecco ecco, hai toccato... Bravissimo, hai toccato proprio la domanda che ti volevo fare dopo. Quindi quando il pistacchio è verde smeraldo non va bene, vero? No, allora, in verità il pistacchio verde di Bronte nasce per essere particolarmente verde. È chiaro che deve essere un verde che ti ricorda qualcosa che esiste, non qualcosa che non c'è. Cioè diciamo che gli stabili lo boss e vanno bene che hanno quel colore... Esatto, quando tende al tappo dell'evidenziatore c'è un problema. Perfetto. Però nel senso la frutta deve essere frutta e stagionalmente io combatto da anni la mia battaglia sulla fragola che da me in gelateria trovi più o meno per tre mesi, tre mesi un po' all'anno dopodiché secondo me non vale più la pena comprare delle fragole a costo over che sanno di molto poco. Quindi voglio dire, quando d'inverno hai delle pere ottime, un'uva buonissima cominciano i chiachi, le castagne. E quant'altro, trovare ancora persone nel 2024 con la cultura che si ha sul cibo e trovare delle persone a novembre che mi chiedono la fragola mi viene da grattarmi un po'. Andrea, non so a chi ti riferisci, guarda. Non voglio sapere niente. Non so che... Però, no, no. Tra l'altro, mentre parlavi... No, immagino che sia una cosa... Mi ha ispirato una cosa, Andrea, perché effettivamente io chiedere la fragola a chiunque sempre, no? Però, anzi, ho l'opportunità di provare magari dei gusti, ma soprattutto della frutta che magari non mangerei mai per i fatti miei... Cioè, io un cacco non lo mangerei mai ma neanche se mi paghi i soldi. Però, effettivamente, non so com'è il gelato. Infatti, non so com'è il gelato al cacco, però, effettivamente. Penso che sia uno dei miei preferiti. Vedi, vedi. E allora, mi sa che mi hai mai convinto. Per però venire a assaggiare invece tutti gli altri gusti, ricordaci bene l'appuntamento di sabato con tutto quello che dobbiamo sapere. Sabato 12 ottobre, iniziamo alle 14, rimaniamo lì fino alle 22. Chiaramente non è solamente gelato, ma ci sono anche un sacco di altre attività, nel senso che se potete venire con i bambini e parcheggiarli lì con degli animatori bravissimi che saranno presenti dalle 16 circa. Finiamo con un DJ e un po' di musica. Ci sarà una piccola masterclass sul mondo del cioccolato tenuta da Marta, che è uno chef della Cioccoletta Academy. Anche lì per fare un po' di formazione. Ci sarà un giochino che si chiama Wall-E 10 Lode, che capirete e scoprirete quando venite lì. E un sacco di cose durante tutta la giornata. Allora, ricordiamo appunto, Giatria Wall-E, Piazza Lavater, Porta Venezia. Quindi dalle 14 giusto o più o meno? Dalle 14 sì, più o meno, fino alle 22 circa. Perfetto. Andrea, grazie mille allora. Grazie a te. Veniamo ad assaggiare tutti i gelati, c'è poco da fare, va bene. Assolutamente, siete benvenuti. Va bene, grazie mille ancora ad Andrea Zingrillo della Giatria Wall-E, ricordiamo, Piazza Lavater, Porta Venezia, dalle 14 fino alle 22, questo come prima più di prima, giusto? Così si chiama? Esatto, volume 4. Volume 4, beh allora, quattro palline per adesso, poi il prossimo anno facciamo la quinta, va bene. Grazie mille, grazie mille Andrea. Ciao, grazie. La radio, eh sì, oggi lo ho detto, oggi festeggiamo il compleanno, è avvenuto ieri 6 ottobre dei 100 anni della radio italiana e questa era mille con la radio. Oggi cercheremo così intanto di ricordarvi che giornata importante è per tutti coloro come ne è che, insomma, fanno della radio un momento importante, appunto, non so come dire. Comunque, è soprattutto di voi che andate la mattina e l'ascoltate svegliandovi. Grazie ai messaggi che sono arrivati, molto interessati sul gelato, ma soprattutto mi è piaciuto quello di Adriana che è arrivato, che dice che tanti anni fa per un Treschic, che è una serata che si fa a Milano di musica, mi sono vestita da gelato al cioccolato dolce un po' salato. Mi sarebbe piaciuto vedere, com'è il vestito, Beatrice, secondo te, chiedo alla mia produzione, com'è il vestito da gelato al cioccolato dolce un po' salato però? Un po' seducente? Però allo stesso tempo cute, come dite voi, i giovani, ok, carino? Con un po' di pizzo? Ah, perché il pizzo è quel dolce salato, il pizzo. Ah, ok, ok. Però, poi cos'è, un tubino nero, no? Un tubino... Cioè, non puoi vestiti un tubino marrone? Cioè, schifo. Lì è il vestito da tronco, cioè, da cugino... Non si può dire. Un rosso molto scuro. Che gelato mangi tu? Gelato rosso? Beh, gelato nero, sì, scusa, nero. Il gelato fondente è nero. Comunque, scusate, queste sono diatribe, diatribe, il gelato fondente è quello lì al 0%, 100%, 96%, praticamente nero, dai, cioè, no. Vabbè, un marrone scurissimo. Comunque, io dico tanto di quelle che si sono in marrone, vi ricordo sempre, così faccio outing, che io ho avuto un'automobile marrone. Proprio me l'ho comprata nuova, ecco, non è che me l'hanno regalata, me l'hanno usata, no, no. Sono proprio al concessionario a comprare un'auto, e non era neanche piccola, perché era una monovolume, marrone. La più bella macchina che ho avuto in vita mia, comunque. Quindi, non denigrate il colore marrone, perché non è così brutto. Comunque, leggo da Corriere della Sera Milano, perché Milano, appunto, la Galleria Vittorio Emanuele, si rifà il look restauro di rosoni e mosaici, restyling anche per il sacrario dei caduti. Interventi finanziati dal Comune di Milano per 15,8 milioni di euro, lavori al via la prossima estate. Quindi, va bene. Poi, c'è una cosa che non capisco, messa in sicurezza di Palazzo Marino e della sede dell'Avvocatura. Ma Palazzo Marino non gli sta facendo i lavori adesso. Cos'è che dobbiamo mettere ancora in sicurezza? Stanno già facendo i lavori. Sono andato a vedere la data per l'articolo, ho detto, magari sto leggendo un articolo vecchio, invece no, è sempre quello. Comunque, dagli edifici storici e quali istituzionali, la Giunta Comunale ha approvato, nella sua ultima seduta, una serie di interventi di manutenzione per un valore complessivo di 15,8 milioni di euro. A rifarsi il look saranno la Galleria Vittorio Emanuele, il Sacario dei Cruti di Guerra in Piazza Sant'Ambrogio e alcuni edifici destinati alle istituzioni, come ad esempio Palazzo Marino e l'Avvocatura Comunale in via della Guastalla. Ripeto però che io non so, mi sono d'accordo che però il Palazzo Marino lo stanno già mettendo a posto. È tutto impacchettato, tutto super impacchettato. Comunque, vabbè, in occasione appunto di Expo erano già stati stanziati 5 milioni di euro per sistemare alcune situazioni proprio sulla Galleria Vittorio Emanuele II. Adesso arrivano anche questi altri euro per metterla ancora in più, per metterla ancora in, soprattutto in sicurezza, che è quello fondamentale per la Galleria, ma soprattutto appunto metterla a posto e fare un po' di restyling e di conservazione di quello che appunto è tutto l'opera omnia, no, l'opera magna, che è la Galleria Vittorio Emanuele II. Insomma, la Galleria è qualcosa di pazzesco. Cioè, una volta si diceva che era il salotto di Milano. Adesso non so se forse sia ancora così, se forse negli anni Milano si è spostato in altri salotti, se City Life è diventato più forte per certe cose, se forse Porta Nuova per altre, Gaulenti, non lo so, eh. Però sa di fatto che sicuramente ogni volta che si entra lì, si va al centro di quell'incrocio che c'è nel mezzo della Galleria Vittorio Emanuele. Si guarda verso l'alto, si vede la cupola, tra parentesi ricordo che quella cupola lì è qualcosa di pazzesco ad esempio sotto Natale, con tutte le lucettine. Si vede il povero Toro a sinistra con diciamo i gioielli completamente spondati dai tacchi delle persone che gli girano sopra. Io so che ad esempio il nostro amico Andrea Cherchi ha fatto una grande battaglia per cercare di salvare i gioielli intimi del Toro della Galleria Vittorio Emanuele. Insomma, è un luogo davvero pazzesco e di una magia e di una milanesità fortissima. Ad esempio, ricordo, parlando al punto del Toro, non so se lo sapete perché si fa quel giro lì. Sapete perché c'è il Toro da quella parte, no? Dall'altra parte, di fronte al Toro ad esempio, c'è il Leone di San Marco. Perché? Perché da quella parte là si va verso Venezia, cosa che invece se vai dalla parte di lì si va verso Torino. sono i quattro punti cardinali diciamo rispetto ai casati, credo che fossero, o ai regni, o agli stati diciamo che c'erano confinanti con Milano all'epoca. Beh, i milanesi sono sempre stati così simpatici verso i torinesi che si mettono appunto, si misero già all'epoca a schiacciare i zebedei del Toro. e quindi è rimasta questa tradizione, bisogna fare i famosi tre giri, si dice così, bisogna fare i tre giri con col tacco sopra al Toro perché questo porti fortuna. In realtà appunto nasce da uno sfottò della nostra città verso la città di Torino. 7 e 53 minuti, fra pochissimo appunto andiamo in pausa con il giornale radio che ci aspetta proprio dietro l'angolo come si dice in questi casi, ma non prima appunto di ricordarvi anche che c'è il nostro numero di Whatsapp che è il 331 78 53 555. Ci avete scritto in tanti, ad esempio Ericka ci scrive buongiorno e buon compleanno alla radio, mio media preferito, sempre presente nella mia vita, 100 di questi anni. Ebbè, sì, è bello. Voglio dire come molti, molti di voi hanno sempre avuto la radio al loro fianco, come dicevo prima, poi radio che cambia magari nell'elettrodomestico, cioè cambia nel mezzo fisico con cui lo ascoltate, quindi passa dal radio magari messa in cucina dalla mamma al Walkman con dentro il sintonizzatore radio negli anni 90 quando si andava a scuola oppure all'autoradio quando poi finalmente si prende la patente e adesso anche a questi nuovi smart speakers che abbiamo in casa o con il nostro smartphone o al lavoro iconizzando il sito, vi ricordo sempre che potete ascoltare Crystal Radio nel sito internet di Crystal Radio, iconizzate il sito fate finta di fare una call e invece vi ascoltate Crystal Radio questi sono i vari modi in cui si può ascoltare la radio e grazie anzi questa mattina continuerò a ripeterlo grazie soprattutto per continuare ad ascoltare la nostra radio Crystal Radio che tutte le mattine e tutti i giorni vi cerca di raccontare Milano perché così no Crystal Radio Milano si sente Radio Rama con Aliens ancora di radio si parla alla fine è quello è meglio il compleanno i cento anni si fanno una volta sola non è proprio semplice non potrò essere qua al prossimo non credo che riuscirò ad essere qua al prossimo centenario della radio a raccontarvi dei auguri duecento anni della radio non credo quindi insomma mi prendo questa bellissima giornata oggi appunto che è il giorno in realtà dopo lo stiamo festeggiando non andiamo in onda la domenica quindi non possiamo farci niente perché appunto ieri 6 ottobre cento anni della radio italiana dal 6 ottobre 1924 al 6 ottobre 2024 ricordiamo anche poi comunque che sempre con il 4 finisce l'anno di fondazione di Crystal Radio 1984 2024 40 anni di Crystal Radio oggi è lunedì lunedì inizia la nuova settimana inizia la settimana anche del lavoro insomma si va a lavorare si sveglia la mattina e si vuole a qualcuno e dice buon lavoro buon lavoro a te buon lavoro anche a te sapete chi ci dice buon lavoro molto 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 bene tutti lunedì Filippo Poletti e quindi ascoltiamo il buon lavoro di oggi di Filippo Poletti anzi così si sarà Filippo buon lavoro a te buon lavoro a tutti la prima parola della settimana è acquisizione nessuno pensava che una piccola fonte alpina italiana quattro dipendenti per iniziare potesse sfidare i colossi dell'acqua minerale chi l'ha detto l'ha detto Alberto Bertone il CEO di Acqua Sant'Anna che ha aggiunto io ci ho creduto compriamo in Europa per essere più internazionali e portare il modello Sant'Anna sugli scaffali della grande distribuzione europea siamo abituati di solito a sentire notizie di acquisizioni in Italia questa è una notizia di un'acquisizione dell'Italia all'estero la seconda parola chiave della settimana è retribuzioni dobbiamo muoverci tutti assieme per migliorare i luoghi di lavoro e appunto aumentare le retribuzioni chi l'ha detto l'ha detto Brunello Cucinelli che ha aggiunto io penso che con l'1% all'anno dei profitti messi a disposizione della categoria degli operai possiamo rendere più dignitoso il lavoro con le mani e salvare il Made in Italy è appunto la proposta di Cucinelli rivolta ai colleghi imprenditori è il capitalismo dal volto umano su cui riflettere la terza e ultima parola chiave della settimana è inclusione via il progetto side by side di cui vogliamo parlare qui a Buon Lavoro ebbene al confronto diverse esperienze esperienze di inclusione sviluppate in azienda c'è ad esempio Stefano un professionista con sindrome di Down che al gruppo Vegetti spiega l'importanza dei toni gentili al lavoro oppure c'è il caffè sociale della Perfetti Van Mellen ci sono i video per accendere gli unbias dove a n t t data e infine c'è il grande sforzo per superare i pregiudizi di genere nel settore della finanza promosso appunto da Allianz Global Investors bella rete di confronto nata grazie a Joel Gallesi e Fulvio Matteoni l'unico modo per diffondere l'inclusione qual è è fare esperienze di inclusione e appunto condividerle come fa il progetto side by side e allora buon lavoro a tutti la rappresentante di lista la città addosso 8 e 15 minuti ben ritrovati bentornati qui su Cristian Radio Good Morning Milano grazie ancora a Filippo Poletti e al suo buon lavoro tante appunto notizie che tutti i lunedì ci dà a Filippo che potete però seguire tranquillamente su LinkedIn perché lui tutti i giorni pubblica notizie diciamo belle notizie che fanno anche sperare bene appunto sul mondo del lavoro poi lunedì cita diciamo tre parole del buon lavoro qui su Cristian Radio a Good Morning Milano devo leggere una notizia insomma non diamo notizie del genere ma c'è grande apprezzione in questo momento per le ricerche di Davide Piccinali medico specializzando all'ultimo anno di cardiocirurgia presso l'ospedale San Raffaele di Milano tutti i giornali stanno portando notizia tutti i social sono invasi dalla locandina dalla foto di questo ragazzo che è scomparso appunto nella giornata di venerdì mattina più o meno nel senso che giovedì appunto alle 19 circa il medico appunto Davide Piccinali è uscito dal San Raffaele dove lavora lui è bresciano ma vive a Milano e la mattina dopo sarebbe dovuto appunto presentarsi al lavoro come da turno non si è mai presentato ecco quindi sono scattate subito scattano subito l'allarme perché soprattutto ci sono le dichiarazioni del fratello che dice è una persona seria e precisa non arriverebbe nemmeno mai in ritardo fra l'altro ama molto il suo lavoro otteniamo quindi che gli possa essere successo qualcosa l'appello è condiviso sui social praticamente in ogni pagina lo cercate ripeto il nome Davide Piccinali le sue caratteristiche sono appunto è un 39enne di 1,73m corporatura esile capelli castano chiaro tendente al rosso occhi grigio azzurro una barba tendente appunto anch'essa al rosso non si sa cosa indossasse quando è scroppasso potrebbe avere con sé il telefono ma al momento risulta spento potrebbe anche non avere i documenti non si è presentato scusate scusate succede non si è presentato appunto il lavoro nella mattinata di venerdì 4 ottobre quindi è ancora scomparso e risulta ancora le ricerche appunto sono ancora in atto in questo momento se avete notizie se avete se vi state qualcosa cercate appunto sui social ci sono tutti i riferimenti o comunque appunto basta poi andare nel più vicino comando di polizia o carabinieri o chiamare i vigili insomma e fare le vostre segnalazioni ripeto Davide Piccinali 39 anni 1 metro 73 corporatura Esle Capelli Castano chiaro tendente al rosso occhi grigio azzurro vi terremo aggiornati sicuramente sulle ricerche questa notizia che sta campeggiando su tutti i giornali questa mattina e insomma tanta tanta apprezzione per questo medico del San Raffaele Bruno Rissas capita così e chissà se quando gli hanno detto ma cosa hai fatto ha risposto e capita così anche Alessandro Verdi chi è Alessandro Verdi? è il 29enne capogruppo della Lega di Milano che ha guidato il coro che a Pontida portava lo striscione contro lo Jus Scola diceva appunto Tajani ricordiamo leader di Forza Italia scafista e accompagnava questo sobrio striscione con un Tajani Tajani vaffa ecco quella roba lì anzi io così perché non voglio essere ambasciatore non porta pena come si dice Tajani scafista Tajani scafista Tajani Tajani vaffa al culo Tajani Tajani vaffa al culo Tajani Tajani vaffa al culo ecco l'avete sentita la voce principale che ha inneggiato il capo ultra diremmo di questa cosa è stata fatta e era proprio quella di Alessandro Verdi con un megafono che appunto ha dato il via a quello che non è piaciuto per niente all'interno della Lega Verdi da quel momento non risponde anche se Repubblica Milano dice lo striscione che non è piaciuto a nessuno nella Lega e Verdi dopo aver ammesso sono un po' scemo ora tace vabbè questo è quanto avvenuto appunto e quindi c'è un po' di malcontento all'interno della Lega e di scollamento forse mi avrebbe da dire tra la base alcuni insomma Verdi è molto molto giovane però ha una grande carriera politica alle spalle cioè di anni è veramente ha iniziato giovanissimo è appunto capogruppo della Lega a Milano quindi insomma un 29enne che fa già il capogruppo in consiglio comunale insomma una persona quindi con anche una statura molto probabilmente all'interno del partito o comunque riconosciuta dal resto del partito sta di fatto che no nessuno ha dato invece l'ok a questa azione anzi secondo comment leggo sempre dalle colonne di Repubblica secondo comment che arriva dalla segretaria provinciale della Lega lo striscione anti-italiani non è piaciuto nemmeno ai più realisti del re i salvignani spindi nessuno e invece Alessandro Verdi appunto ha fatto sia diciamo uno di quelli dello striscione non è l'unico diciamocelo ma è stato appunto quello che ha fatto partire questo coro che non è piaciuto per niente e sta di fatto che qui insomma adesso si è trincerato dietro un silenzio dopo aver ammesso forse di aver fatto un passo falso e per ora non ha detto niente vedremo se nei prossimi giorni nei prossimi ore magari dirà qualcosa in più e dirà la sua magari spiegando perché insomma si è fatto prendere così tanto dall'entusiasmo di mandare a quel paese un leader politico alleato soprattutto questo che finché si mandano a quel paese tra schieramenti incrociati ormai non ci stupisce più nulla che però si mandi a quel paese e in questa maniera anche così forte il leader dell'altro partito di uno dei tre partiti fondamentalmente che formano la maggioranza di governo fa un po' specie diciamolo e insomma lo sappiamo che questo you scholar you solely poi chiamatelo come volete non piace a molti ma piace tanto tanto ad altri e soprattutto credo che insomma sia doveroso fare un ragionamento su cosa è civile oramai nel 2024 e cosa invece è medioevale oramai nel 2024 i Queen con Crazy Little Thing Call Love alle 8 e 32 minuti qui su Crystal Radio questa è la musica che vi facciamo ascoltare tutti i giorni cercando appunto di darvi grande energia volevo leggere un articolo che arriva da la sera a Milano è una notizia che insomma è arrivata pochi giorni fa appunto e ci hanno lasciato un po' così e cosa sto parlando della chiusura del covo della ladra di Via Padova una libreria storica nonostante avesse solo 7 anni ma insomma già entrata nel cuore di molti la sua libraia Mariana appunto ha detto eravamo come l'orchestra del Titanic mentre affondava ma ora non suono più insomma in realtà la notizia è brutta sicuramente perché insomma chiude una libreria insomma non è mai la bella notizia ma insomma se possiamo in qualche modo dire qualcosa di decente è che in realtà non chiude completamente insieme a che appunto si tramuta il suo negozio diventerà la sede della della casa editrice che appunto Mariana ha aperto qualche anno fa e quindi comunque rimarrà un luogo e presidio di cultura e di insomma una bella storia che insomma vede cambiare un po' il suo assetto ma che insomma speriamo non abbandoni completamente la nostra città perché è importante davvero il lavoro che sta facendo e che ha fatto in questi anni Mariana il suo team in quel di Via Padova e adesso continuerà appunto con la casa editrice sempre lì però insomma dobbiamo salutare appunto il covo della ladra ci mancherà davvero davvero tanto grazie Mariana per tutto quello che hai fatto fino ad oggi 8 e 39 minuti di nuovo qui in diretta con Good Morning Milano Crystal Radio FM 96.2 Dub Plus e poi c'è l'App lo sapete insomma ci potete ascoltare come volete ma se vi perdete qualche pezzo c'è anche il sito è goodmorning.milano.it e se per caso volete riascoltare gli interventi dei nostri ospiti bene trovate tutto lì come ad esempio la nostra ospite che è collegata con noi buongiorno la consigliera Diana De Marchi buongiorno 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 allora ricordiamo presidente della commissione pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano spesso nostra ospite quindi Diana buongiorno e grazie come sempre di accettare il nostro invito è un piacere grande e debbiamo ho voluto interpretarti in realtà con te ci sarebbero tantissime cose da dire è sempre bello anzi poi ci racconterai un po' cosa state facendo perché so che avete tante iniziative ti vedo in giro praticamente ovunque quindi insomma stai seguendo davvero tantissime iniziative in quel di Milano ma nei giorni scorsi un po' ti sei arrabbiata forse un eufemismo poi ci dirai tu perché insomma la tua collega di consiglio ha detto una cosa un po' particolare cos'è che ha detto precisamente com'è che è la storia che cioè io vorrei capire questa ossessione che hanno le persone per il capire quando una è donna davvero nel senso che nessuno mi è mai venuto ossessionato a chiedermi se io fossi uomo davvero bravo esatto beh questa è già la prima discriminazione evidente diciamo a tutti ma la consigliera è stata secondo me molto violenta e tutto il gruppo era naturalmente d'accordo e siamo rimasti tutti anche sterefatti dell'inopportunità e dell'oscurantismo delle sue dichiarazioni ma lì è successo che noi avevamo una commissione paesaggio che tra l'altro è stata molto criticata giustamente perché per varie ragioni tra cui soprattutto che non avesse componenti donne e quindi l'assessore ci ha convocati abbiamo lavorato io ho lavorato tanto con lui insieme ad altri la delegata del sindaco a sai che puoi l'associazione per fare in modo che questa cosa venisse riequilibrata quindi siamo riusciti a trovare una formula che dava il 40% di presenze nei criteri di selezione dei componenti della commissione paesaggio io poi ho fatto un emendamento per arrivare anche a un po' di più tra l'altro si parla giustamente non di donne ma del genere meno rappresentato perché fosse mai che invece ci sono più donne che uomini che sarebbe una grande gioia per quel che mi riguarda comunque ci serve un equilibrio ma serve un equilibrio come nella vita di tutti i giorni come chiediamo come commissione in tutte le azioni dell'amministrazione perché tu rispondi devi avere uno sguardo di donne e di uomini e di generi proprio perché stai amministrando una città che è composta da più generi e quindi devi ascoltarli capirli e trovare anche delle azioni che vadano incontro ai bisogni che sono sempre bisogni diversi quindi l'emendamento era questo e sono riuscita a costruirlo in modo che desse anche una persona in più perché i membri sono 15 non potevo tagliarli in due quindi non sette e mezzo però con un criterio e con una modalità siamo riusciti a dire appunto che si poteva arrivare a sette componenti del genere meno rappresentato quando c'è stato poi la risposta per decidere di votare questo emendamento la consigliera Giovanati ha detto che intanto bisogna capire quando si parla di donne e di chi si parla perché è difficile riconoscere delle donne l'unico modo per sapere che sono donne davvero è se sono madri allora questa cosa è fuori dal mondo nel 2024 cioè non è questione di arrabbiarsi è proprio che sei antistorica e peraltro non solo stai discriminando tutte le persone che si sentono comunque donne a prescindere e questo è importantissimo ma stai soprattutto tornando indietro rispetto a un concetto che è quello che ha visto le donne costrette a essere solo madri e quindi a non poter fare altro per tanto tempo per fortuna ci sono state donne prima di noi che hanno fatto delle lotte straordinarie potentissime e questa cosa l'abbiamo superata e possiamo lavorare diciamo e non dobbiamo solo fare le madri quindi davvero si è riferita a qualche cosa che non è più nella quotidianità di nessuno perché sappiamo che la vita per fortuna è una vita più libera con tutti i condizionamenti e le fatiche che ancora abbiamo perché le donne comunque hanno una vita da equilibriste perché non riescono ancora ad essere libere nelle scelte professionali quello che ho stupito consigliera è che appunto non è stato il solito refrain del fatemi vedere la cartella clinica fatemi vedere cosa c'è sotto la gonna adesso la dico anche male siamo arrivati a una cosa ma ve lo capisco ma si aspettava nel senso cioè io sono accaduto dal pero quando ho detto una cosa del genere ma è possibile che ancora oggi qualcuno io guarda sì noi non ce l'aspettavamo soprattutto in questi termini diciamo che la destra è sicuramente più discriminatoria e quindi ha questa visione del passato rispetto ai ruoli che non possono cambiare che sono quelli appunto che ingabbiano le persone in certe condizioni specifiche questa è una cosa della destra infatti tutto quello che è non posso credere che non ci sia una consigliera non c'è una consigliera comunale che non ha figli ad esempio non ci posso credere ci sarà almeno una consigliera comunale che non ha dei figli ma certo ce ne sono tante infatti si sono ribellate assolutamente ma peraltro la cosa che più stupisce è che un conto è la destra che sappiamo essere così questa consigliera si è spostata adesso è di Forza Italia ora Forza Italia si almeno si fa riconoscere come più moderato nelle sue idee proposte ecco quindi mi domando anche questo Forza Italia sarà d'accordo su questa posizione cosa non l'avete chiesto non gli avete chiesto cosa pensavano le colleghe i colleghi cosa pensavano non l'abbiamo ancora chiesto ma lo faremo lunedì perché è stato tutto alla fine del consiglio che bisognava votare perché c'è stata una lunga interruzione per arrivare a questo voto perché dovevano mettersi d'accordo capire qual era il criterio per cui si era arrivati ad aggiungere una componente insomma è stato travagliato ha detto lo chiederemo lunedì perché lunedì cosa succede? oggi pomeriggio c'è consiglio quindi quell'emendamento è stato votato a prescindere da questa dichiarazione offensiva medievale quindi quell'emendamento è stato votato però oggi possiamo parlarne ecco diciamo proprio perché siamo in un'altra sede di consiglio anche se oggi abbiamo un consiglio un po' particolare perché essendo il 7 ottobre interrompiamo iniziamo in anticipo e interrompiamo per poter andare in sinagoga chi vuole e ritornare ai lavori di consiglio ok oggi è il 7 ottobre infatti quindi anche c'è quella data parliamo invece di cose un po' più piacevoli consigliera dove allora dove è stata questa settimana perché l'ho vista praticamente ovunque mi dica uno dei luoghi so che faremo torto agli altri però una delle belle cose che è andata a fare questa settimana perché ho visto veramente tantissime belle cose sì beh forse la più bella è stata proprio ieri sarà perché me la ricordo meglio essendo stata ieri è come quando si va al ristorante che ci si ricorda il dolce perché è l'ultima cosa che si mangia però in realtà ci tengo moltissimo perché ieri ho premiato io naturalmente la finalista però c'erano finaliste e finalisti della scherma per i non vedenti che è un torneo internazionale a cui tengo molto perché appunto quando parliamo di pari opportunità e diritti civili ecco vedere sportivi che fanno di scherma che fanno il torneo che combattono davvero con una passione una capacità straordinarie ti fa capire che davvero tutti possono fare tutti se li metti tutto quello che desiderano se li metti nelle condizioni di farlo ecco io credo che questo sia proprio siano le pari opportunità concrete quelle per cui ci battiamo tutti e ieri è stato molto emozionante poi appunto davvero è una gara molto sofferta e poi io ricordo la prima volta quando ho partecipato che mi è sembrato incredibile adesso mi sembra assolutamente normale cioè è un torneo come tutti gli altri e questo è un pezzo appunto di cambiamento credo anche della nostra città ma in generale della cultura sul quale bisogna andare avanti ma che già ha fatto un pezzo di strada ecco sicuramente è stata la cosa più bella abbiamo visto anche con le Paralimpiadi di questa estate insomma come davvero ormai ci stiamo facendo l'abitudine a vederli come degli sport punto e non come invece altro quindi insomma è molto importante questo e tra l'altro loro stanno lottando per entrare nelle Paralimpiadi perché non ci sono ancora ottimo ottimo la scherma per non venentino non c'è ancora la scherma c'è un progetto che da anni sta seguendo che voglio sapere come sta andando quello dei nomi delle vie delle piazze nomi femminili sta andando bene come sta andando sta andando benissimo non so se avete un po' visto ma la città davvero sta intitolando giardini anche con intitolazioni plurime per fare appunto non so le scienziate insieme due o tre come hanno fatto nell'ultimo giardino di municipio 1 insomma ci sono veramente tante realtà che si stanno muovendo e soprattutto i municipi stanno scegliendo e condividendo col territorio quali sono le donne io credo che sia questo un po' il risultato perché non è solo la via ma è capire perché raccontare la storia conoscerla e diffonderla di queste donne che ci hanno aperto la strada quindi adesso io devo presentare invece questa è una aggiunta un ordine del giorno che ho pensato di proporre sulla intitolazione delle fontane di alcune fontane un po' perché non ci bastano nei giardini nelle vie ma poi perché mi piace molto l'idea dell'acqua che è libera come appunto tutti noi vogliamo che siano libere le donne di fare quello che desiderano della loro vita e quindi l'acqua dà un po' quel senso e quindi la fontana mi sembrava che potesse essere un altro elemento da intitolare simbolicamente molto legato al senso dell'intitolazione molto bello come senso anche allora consigliera io la ringrazio tantissimo davvero per il suo contributo di questa mattina noi siamo già arrivati alla chiusura di questa puntata quindi io la ringrazio e insomma spero di vederla ancora in giro che insomma sia sempre in giro in giro in giro anche da voi volentieri ecco bene ti aspettiamo qui allora dai facciamo così va bene buona giornata la consigliera De Marchi grazie mille di essere con noi questa mattina continuiamo con un po' di musica e poi veniamo a chiudere perché manca veramente poco stiamo parlando di Darje and Amico con Dove Si Balla 8 e 54 minuti lunedì 7 ottobre siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano e inizia una nuova settimana e l'avete fatto nella migliore delle maniere secondo me ovviamente ascoltando Good Morning Milano ma potete continuare a farlo anche ascoltandoci su goodmorning.milano.it riascoltando i vari interventi se vi siete persi qualche ospite anche delle puntate precedenti anche delle settimane scorse lì c'è tutto e poi lo ritrovate anche su Spotify e anche su Apple Podcast dopo di noi invece alle 9.05 dopo il giornale radio c'è senti questa Ambrogio Curti le storie della musica la lettura delle canzoni gli aneddoti più importanti raccontati dal bravissimo Ambrogio Curti senti questa alle 9.05 qui su Crystal Radio tutti i giorni dal lunedì al venerdì c'è sempre non si è mai fermato neanche d'estate non si ferma neanche Natale mai non si ferma mai noi invece torniamo domani mattina come sempre alle 7 qui pronti in diretta in diretta anche su Facebook in diretta anche su Twitch in diretta anche su YouTube sui canali di Good Morning Milano le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Filippo Poletti di Anne Marchi e poi qui il presente Fabio Ranfi in regia Ginevra e Beatrice grazie mille a tutti a domani qui alle 7 ciao 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 Grazie a tutti.